Un presepe di luce che sovrasta spacca Napoli, così è iniziato il Natale in città. San Gregorio Armeno, storica strada dell'arte presepiale, è stata addobbata con luminarie che riprendono i vari personaggi della tradizione tipica napoletana. Tra scene della natività, cammelli e pastori nomadi, a spiccare sono le varie scene che riprendono l'acqua, in quanto il ma scelto è proprio l'acqua, in quanto pubblica al centro sia delle ultime controverse istituzionali in regione che del dibattito gestito da comitati e società civile. Pozzi, uomini e atti a portare secchi in un equilibrio perfetto fanno capolino tra capanne di sughero e pastori di argilla. L'inaugurazione, avvenuta domenica, ha visto la presenza del sindaco Luigi De Magistris e di padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, da sempre attivo nella tutela dell'acqua pubblica. È solo l'inizio questo del Natale napoletano che da novembre sino all'Epifania vedrà più di 60 eventi in giro per la città.